Il Consiglio Comunale di Castrovilla arriva verso lo scioglimento dell'assise e le elezioni anticipate. Lo spettro della crisi era dietro l'angolo da quel famoso voto di astenzione che fece paventare la frattura del gruppo verso il PSE, composto dal consigliere Dolce e dalla consigliera D'Incianna. Il dato scaturisce dal fatto che sono state consegnate al protocollo dell'ente le dimissioni irrevocabili di nove consiglieri. Giovanna D'Incianna e Francesco Dolce verso il PSE, Anna De Gaio e Mario Rosa NDC, Pasquale Russo ed Eugenio Salerno UDC, la parte che non era in maggioranza, Giuseppe Santagada, Onofrio Massarotti e Ferdinando Laghi per le liste civiche. Proprio questi ultimi due con Salerno hanno protocollato per conto degli altri le dimissioni dalla carica di consigliere. Nella motivazione accusa al documento i nove esprimono insoddisfazione dell'attuale governo della città e nel dichiarare di dimettersi dalla loro carica chiedono che vengano attivate le procedure di legge per lo scioglimento del Consiglio Comunale e per arrivare nel più breve tempo possibile alla elezione di un nuovo sindaco e consiglio. Queste le dichiarazioni a caldo di Mimmo Lopolito. Nella giornata di ieri già avevamo avuto la bella o brutta notizia che i nove consiglieri saranno recati in tre bisacce davanti al notario per sottoscrivere le dimissioni. Le dimissioni di i nove consiglieri che rappresentano la maggioranza significa ovviamente lo scioglimento del Consiglio Comunale. Noi ne prendiamo atto. Per la verità era qualcosa che avevo già messo in conto. La settimana scorsa avevo rilasciato una dichiarazione in cui dicevo che se i presupposti erano l'azzeramento dell'Aggiunta e l'azzeramento delle nomine municipalizzate da me fatte che era un vero e proprio ricatto, non c'era assolutamente nulla di politico era più giusto andare alle elezioni anticipate. Hanno visto che le cose erano cambiate perché evidentemente erano abituate al passato quando pur di mantenere la poltrona di sindaco sono state azzerate e giunte non vado tanto distante tre anni fa. Evidentemente davanti a tanta fermezza hanno capito che c'era poco da contrattare. Io ritengo che sia più giusto che la città torni a scegliere i propri rappresentanti piuttosto che andare avanti con chi oggi o domani sarebbe tornato comunque a ricattare. Non abbiamo amministrato e lo diremo, spero sabato, in un Consiglio Comunale nell'interesse della città. Non abbiamo ceduto a ricatti di chi voleva solo poltroni, di chi voleva posti di chi voleva probabilmente posti di lavoro, lo diremo tutto e tutto documentato e in modo particolare abbiamo fatto in maniera tale che a gestire la cosa pubblica non venissero chiamate persone chiacchierate. Questo lo paghiamo ma non lo paga la città, lo paghiamo noi personalmente, ci siamo sacrificati ma lo abbiamo fatto a ragion veduta sapendo che alcuni avventurieri, mi auguro, la città li saprà valutare non mandandoli mai più ad amministrare la cosa pubblica che cosa pubblica e non cosa privata.